Chi e come ha inventato lo zero? Bisogna distinguere fra l'idea di zero nel senso che un insieme è vuoto, c'è qualcosa che non c'è, e l'utilizzo invece dello zero come numero, quindi all'interno di un sistema di cifre per fare dei calcoli. L'idea di introdurre un simbolo o comunque una nozione di vuoto, qualcosa che non c'è, c'è già senz'altro nella matematica babilonese, forse in quella egizia e anche in quella greca. Se arriviamo per esempio a Tolomeo, il grande astronomo greco, Tolomeo dà le declinazioni delle stelle nel suo catalogo stellare e scrive tranquillamente che per esempio una stella ha declinazione 0 gradi 30 minuti, quindi usa il concetto di zero come questa cosa è nulla. Però siamo lontani dall'usare lo zero come un numero, cioè lo zero diventa un elemento delle cifre che noi usiamo per fare calcolo. E la introduzione dello zero come numero semplifica enormemente la nostra capacità di fare i calcoli elementari, addizioni e sottrazioni. La risposta a chi ha introdotto per primo questo concetto è quasi sicuramente un astronomo maya. Il popolo maya, questo grande popolo precolombiano, quindi prima della nostra scoperta dell'America, vissuto fra il II e il VI secolo d.C., per lo meno il cosiddetto periodo classico, ma che prende la sua cultura da una cultura precedente, che sono gli Olmechi. Bene, i maya avevano un sistema matematico numerico in base 20 e questo sistema conteneva lo zero come numero. Era indicato con una conchiglia vuota. Pensate a una chiocciola, però senza l'opercolo, cioè senza l'animale all'interno della chiocciola, quindi questo simbolo di questa conchiglia vuota che rappresenta lo zero. Passiamo all'Occidente. Allora, in Occidente probabilmente i primi a introdurre lo zero come nozione per il calcolo, quindi come numero, sono i matematici indiani attorno al VI-VII secolo d.C. I rapporti con la matematica araba non sono chiarissimi, quindi non è chiaro se gli arabi l'hanno preso dagli indiani e l'hanno sviluppato indipendentemente. Comunque più o meno nello stesso periodo c'è un grande sviluppo della matematica araba fra il VII secolo d.C. e il 1000 in cui viene introdotto sostanzialmente il calcolo decimale come lo conosciamo oggi e viene importato invece in Europa dal primo grandissimo matematico in un certo senso illuminista, anche se siamo ancora nel Medioevo, e cioè Fibonacci, sarà Fibonacci che leggerà le opere dei grandi autori arabi e le farà conoscere in Europa. Grazie.